La scuola di specializzazione in cardiochirurgia è diretta agli studenti che sono interessati a diventare dei cardiochirurghi cioè degli specialisti in ambito cardiovascolare per tutte quelle patologie che hanno un interesse chirurgico. Questi specializzanti seguono un corso di formazione di circa cinque anni durante i quali vengono formati tutte le problematiche sia cliniche e quindi diagnostiche legate a una patologia cardiaca o vascolare. Ho scelto questa scuola di specializzazione perché mi sono innamorata della materia della cardiochirurgia già dagli studi e poi diciamo il destino ci ha messo un pochino lo zampino perché il primo giorno del mio primo tirocinio ero assegnata alla sala operatoria di cardiochirurgia e quando sono entrata ero lì e c'era diciamo il paziente durante l'intervento con il cuore che batteva e me ne sono innamorata. I punti di forza della scuola della specializzazione sono sicuramente il centro in cui si svolge parliamo del miglior ospedale in italia ormai per quattro anni di seguito parliamo di uno dei migliori ospedali al mondo il più alto nel ranking tra gli ospedali italiani e con un volume sicuramente di interventi chirurgici che è inequiparabile almeno a livello del centro sud questo permette allo specializzando di cardiochirurgia di poter acquisire con una notevole velocità rispetto ad altre sedi le skill principali del del futuro specialista in cardiochirurgia un aspetto molto interessante è la formazione al problema di salute del malato ci sono delle sessioni di formazioni cui tutti gli specializzanti di delle quattro specializzazioni vengono riuniti e assistono alla formazione dell'intero problema di salute con l'inserimento di formazioni specifiche in ambito diciamo specialistico quello che è più bello della vita comunitaria all'interno della specializzazione in cardiochirurgia è il rapporto con i propri colleghi noi passiamo tantissime ore nel blocco operatorio e a contatto quindi con i nostri strutturati i nostri tutor il personale sanitario gli infermieri questo ti pone nello sviluppare un rapporto molto più stretto con quello che sono i tuoi colleghi di specializzazione che diventano un po parte della famiglia ovviamente gli sbocchi professionali per un specialista in cardiochirurgo sono legati a una possibilità di lavorare in strutture ospedaliere o policlinici universitari in cui ovviamente è presente un reparto un dipartimento di chirurgia cardiaca se dovessi pensare a me cardiochirurgo più maturo e da grande sono partito con l'idea di voler fare la chirurgia del congenito del congenito pediatrico del congenito adulto mi vedo con alle spalle esperienze in tanti ospedali in maniera tale da avere una visione ampia rispetto a tutte le tecniche chirurgiche attualmente disponibili per poter offrire il meglio al paziente che mi troverò davanti e questo posto mi ha permesso ancora di più di intensificare di confermare questa mia idea grazie agli ambulatori che ci sono in questo policlinico in particolare l'ambulatorio delle cardiopatie congenite dell'adulto e mi piacerebbe anche essere un punto di ispirazione dei nuovi medici